E' tutto pronto per il saggio del Lago dei Cigni, scuola di danza di Pachino, diretta da Floriana Greco. Lo spettacolo, che si svolgerà per il secondo anno consecutivo, si terrà domani sera al Cineteatro Politeama di Pachino. 40 gli allievi tra bambini e ragazzi che si esibiranno davanti ad un pubblico che si prevede numeroso. Durante la manifestazione anche un momento esilarante con i giochi di magia di Mago Charlie, pronto ad intrattenere grandi e piccini. Questa è la seconda manifestazione del Lago dei Cigni, un saggio spettacolo che portiamo pure quest'anno, sabato 1 luglio 2017, presso il Cineteatro Politeama di Pachino, qui. Vedrete il Lago dei Cigni esibirsi per il secondo anno in questo meraviglioso saggio spettacolo. Vedremo all'incirca 40 bambini e 40 allievi tra bimbi e ragazzi che si esibiranno sul palco del Politeama. E che dire, tante sorprese, ci sarà anche un ospite, eccezione nonché anche il presentatore, Mago Charlie, che insomma animerà anche la serata con dei giochi di magia, coinvolgerà anche il pubblico. Ci sarà un estratto di Notre Dame de Paris, Don Quixote, un'opera di Vivaldi e tante altre sorprese. Quindi vi aspetto giorno 1 luglio qui a Pachino al Politeama. Pachino al Politeama Pachino al Politeama Pachino al Politeama